Miserable, bien trouvez ou bienvenue sur ma chaîne? Le seul format de YouTube Italie dans lequel on parle de jeux video? Oulala! Poracci, benvenuti o bentornati sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia che risorge dopo Pasqua. Oggi parleremo del ritorno di Metroid Prime in 2D, del nuovo firmware di Nintendo Switch e della carenza di scorte di PS5 e Xbox Series X, ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale come meglio credete, con un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle poratifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Non vi basta? Beh, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali, dove troverete in esclusiva assoluta i memini in HD. Iniziamo con qualche notizia da trattare al volo e attenti perché questa volta ce ne sono parecchie. Innanzitutto continua il trend positivo di vendite di Monster Hunter Rise, che ha appena infranto un nuovo record. Capcom ha rilasciato un nuovo comunicato stampa, dove annuncia che Rise ha già raggiunto quota 5 milioni di copie vendute, portando la serie ad un totale complessivo di oltre 70 milioni. L'aunting game si conferma essere come una delle hit di questo 2021 su Switch e il supporto continuo promesso dagli sviluppatori probabilmente gli consentirà di rimanere sulla cresta dell'onda per parecchio tempo, senza contare la futura uscita su PC, altro fattore che spingerà ulteriormente le vendite di Rise. Parallelamente la 3D All Stars continua a collezionare i numeri di tutto rispetto, nonostante la sua uscita dal commercio. Ad esempio nella classifica del Regno Unito continua ad essere nella top 10 dei più venduti della settimana, posizionandosi ottava in classifica. Voracci, come avrete notato tutti quanti, le copie sono ancora disponibili e fino ad esaurimento scorte non ha alcun senso cedere ai prezzi folli degli scalper. Ora prendete il calendario e segnatevi questi due eventi, perché si tratta di appuntamenti molto importanti. L'8 aprile alle 14 ora italiana ci sarà una live stream dedicata al No Moriros 3, uno dei titoli più attesi per Switch. Dopo le remaster dei primi due episodi, Travis Touchdown è pronto per tornare con il terzo capitolo il prossimo 27 agosto e il suo creatore, Suda51, terrà una live broadcast intitolata No More Broadcasting 5.1GHM. La trasmissione sarà indirizzata a un pubblico nipponico, ma speriamo di vedere nuove informazioni e immagini di gameplay riguardanti questo attesissimo titolo. Infine è stato finalmente ufficializzato il ritorno dell'E3. Dopo aver saltato l'edizione 2020, l'evento più importante del mondo videoludico tornerà in forma digitale per questa sua nuova incarnazione. La fiera si svolgerà in streaming dal 12 al 15 giugno e sarà accessibile gratuitamente da tutti gli spettatori. Sebbene non esiste ancora un calendario ufficiale, sono stati confermati alcuni grandi nomi tra i publisher del settore, tra cui spiccano sicuramente Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft e Take-Two Interactive. Prepariamoci perché tra l'E3 e il Summer Game Fest di Jeff Kifley sarà un'estate ricca di annunci e presentazioni. Ora ci passiamo ora alle notizie più corpose della giornata. Si torna a parlare di Metroid Prime, ma non nel modo in cui vi sareste aspettati. C'è infatti tantissima attesa per il ritorno di Samu Saran, ma Nintendo continua con un silenzio stampa imbarazzante. Per fortuna ci ha pensato la community, con un progetto semplicemente incredibile. Ecco quindi che fa la sua comparsa la demo giocabile di Metroid Prime 2D, un progetto ambizioso e dallo sviluppo travagliato. Chi lo avrebbe mai pensato che Prime sarebbe tornato sotto questa forma? Non con la Trilogy Collection, non con il quarto episodio, ma con un demake in due dimensioni della pietra miliare uscita originariamente nel 2002 su Gamecube. Il gioco, per essere fan-made, presenta una cura maniacale incredibile ed è assurdo pensare che l'episodio che ha segnato il passaggio della serie dal 2D al 3D sia stato così intelligentemente trasposto all'interno delle classiche meccaniche da side-scroller di Metroid. Disponibile per PC in download gratuito, il gioco presenta un sistema ibrido di controllo che si affida alla combo di mouse e tastiera, aggiungendo una nuova dimensione al tipico gameplay della serie. Vi consiglio di provare assolutamente questa demo, che dura circa una mezz'ora, un po' per farvi un'idea delle potenzialità del brand se non avete mai toccato un Metroid, un po' per fare un tuffo nel passato se siete in astinenza da Prime. Conoscendo Nintendo, tra l'altro, questo progetto ha le ore contate e sono sicuro verrà tirato giù come è accaduto in passato con altri esperimenti amatoriali. Quindi siate furbi e finché siete in tempo, dateli una chance, non ve ne pentirete. Grosse novità in casa Nintendo, perché la Switch ha ricevuto una major update che ha portato il suo firmware alla versione 12.0.0. Quando ci sono degli avanzamenti così radicali nella numerazione ci si aspetta giustamente delle novità importanti. Quindi cosa avrà rivoluzionato Nintendo del sistema operativo della sua console ibrida? Rullo di tamburi? Assolutamente niente. Non ci sono nuove feature aggiunte al firmware di Switch, che continuano ad offrire un'esperienza utente parecchio castrata. Scordatevi temi personalizzabili, l'utilizzo di cartelle o l'integrazione di un qualche sistema di trofei e obiettivi, tutto è rimasto sostanzialmente invariato. Si tratta di un aggiornamento pensato per migliorare la stabilità del sistema operativo. In particolare, il changelog mette in evidenza solo un'eliminazione di un bug che comprometteva i salvataggi in cloud. Niente di radicale, insomma. Anche se, come fanno notare, dei dataminer affidabili, potrebbe trattarsi di un aggiornamento preparativo per cambiamenti più corposi, anche se ormai non mi aspetto più nulla di che dopo 4 anni dall'uscita sul mercato della console. E a questo punto vi chiedo, qual è la feature che più vorreste vedere aggiunta su Switch? C'è possibilità, secondo voi, di qualche stravolgimento del sistema operativo, magari con l'arrivo della Fantomatica Pro? E chiudiamo con una nota un po' amara, perché continuano le difficoltà di produzione di componenti elettronici, e dalle fabbriche arrivano notizie tutt'altro che rassicuranti. Questo significa che molti prodotti, tra cui schede grafiche e console, continueranno ad essere irreperibili ancora per un bel po' di tempo. A parlare, infatti, è stato Yang Liu, presidente di Foxconn, il più grande produttore di componenti elettronici al mondo. L'azienda rifornisce compagnie del calibro di Google e Microsoft, e secondo dei recenti report, a causa dell'incremento della domanda, in congiunzione con il rallentamento dei ritmi dettati dalla pandemia, la scarsità di componenti elettronici, in particolare di semiconduttori, continuerà fino a metà 2022. Con le fabbriche congestionate, una domanda che supera i prodotti disponibili del 30%, l'impossibilità di riperire una console di nuova generazione o gli ultimi modelli di schede grafiche continuerà per tutto il 2021, e oltre. Una situazione purtroppo che non si può aggirare, e che di certo non ha colpito solo il settore dei videogiochi. Prima o poi se ne uscirà, certo, ma fino ad allora i consumatori saranno in mano degli scalper e dei rivenditori che approfittano del periodo di difficoltà per gonfiare artificialmente i prezzi. Insomma, per quanto riguarda PS5, Xbox e serie X, andremo avanti con restocchi improvvisi, waiting room e acquisti fortuiti ancora per molto tempo. Voi poracci, avete gettato la spugna o non mollate? Avete intenzione di prendere una console next gen? O magari ci siete già riusciti? Per il sondagione in edizione pasquale vi ho chiesto, secondo voi, cosa riserva il futuro di Mario? E mi fa piacere notare che l'opinione è abbastanza spaccata e non c'è una voce che sovrasta le altre. Desideratissimo è Super Mario Galaxy 3, anche se credo che al momento sia abbastanza improbabile, almeno fino a quando Nintendo non si ricorderà di essersi persa per strada il secondo episodio. Discorso già diverso per il seguito di Odyssey, anche se credo che la grande N deciderà ancora una volta di stupirci completamente, intraprendendo una direzione inaspettata, sia che si tratti di un platform in 3D o in 2D. Ma sapete cos'altro è pronta a sorprenderci? Ma il sondagione, ovviamente! State belli carichi perché andrà online in serata, quindi votate, votate, votate! E questo, Poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto nei commenti per discutere assieme di tutte le notizie di cui abbiamo trattato oggi. Vi do appuntamento a domani per il prossimo video. Io sono il Poro 12.0, Michele Prime 2D. Ciao! Miserable!